Via Calastro invasa da erbacce e rifiuti. La denuncia arriva dai residenti che segnalano la mancata pulizia della zona da mesi. Come documentato dalle nostre immagini infatti è evidente lo stato di abbandono. La situazione è a dir poco allarmante e è diventato ormai impossibile utilizzare il marciapiede perché completamente occupato dalle piante. Si è costretti dunque a utilizzare la carreggiata per le auto mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Il comune aveva lo scorso 4 maggio con una delibera disposto un piano del diserbo per varie stelle del territorio. In questa lista non era presente però Via Calastro, zona che dà accesso alla zona porto, molto frequentata dalle famiglie per la presenza delle giostre e di alcuni stabilimenti balneari. Una situazione indecorosa a pochi passi dall'area dei Molini Marzoli, sede di molti uffici comunali, di cui la necessità di un diserbo immediato dell'area, sia per i residenti che per gli abituali frequentatori della zona.